Non dimenticare e aiutare i giovani a costruire un futuro di convivenza e rispetto. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio per il giorno in memoria delle vittime delle foibe. Una pagina dolorosa ha commentato la sindaca Raggi che con il Presidente della Regione Zingaretti ha presenziato alle celebrazioni tante le iniziative. Noi siamo stati a Frosinone con Martino Seniga. Vediamo. Nel giorno del ricordo vengono commemorati migliaia di uomini, donne e bambini che alla fine della Seconda Guerra Mondiale furono trucidati e gettati nelle foibe. Voragini profonde decine se non centinaia di metri che sono comuni nelle montagne del Carso. Nel corso di una breve cerimonia il prefetto di Frosinone ha consegnato una medaglia in ricordo di una vittima delle foibe, la Guardia di Pubblica Sicurezza Giuseppe Eugenio Corbo. La medaglia è stata consegnata al pronipote Massimo Imbriglio, residente a Cassino. Per mia nonna e per il fratello di nonna che si chiamava Corbo Vincenzino era solo un ricordo di quando era partito e credevano che non tornava più, era sparito. All'inizio si pensava che era stato ammazzato o qualcosa del genere, però non avevamo nessuna notizia. Dopo tanti anni si è scoperta che era stato trucidato perché era italiano ed era stato trucidato a fiume. Da una ricostruzione storica conclusa solo nel 2019 è emerso che il giovane poliziotto di servizio a fiume fu catturato dai partigiani Titini dopo la conquista dell'Istria e fu assassinato presumibilmente nella strage di Grobnico avvenuta il 16 giugno 1945. Il suo corpo non è mai stato ritrovato.